ciao ciao siamo di un bel ritardo pietro si vede comunque grazie a tutti grazie a tutti spero mi divertiate mangiate mangiate bevete auguri ciao 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 auguri agli sposi auguri con il cuore con il cuore con il cuore guarda tonino 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 ciao 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 auguri auguri ma poi questi video allora ciao noi andiamo a mangiare auguri Matteo auguri Francesca io nomino è meglio perché auguri auguri ciao tanti auguri e grazie che ci hai invitato ciao 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 auguri 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 diciamo cose troppo stupide e lui blocca no bene grazie ciao auguri grazie mwah mwah quello che succede qua dentro non rimane qua dentro ciao ha detto Stefano che alle feste si deve fumare se fumi poi puzzavi non c'è più rispetto arcaio auguri ciao ragazzi tantissimi auguri dalla vostra housekeeper volevo dirvi che vi voglio bene e siete meravigliosi un bacio ma c'è qualcuno che vi deve dire qualcosa un attimo il nome del padre del figlio dello spirito santo vi benedico nel nome di Cristo ameno io nomino Valerio e viva le patate questa settimana si è comportato male non ho feeling con lui lo nomino nomino Francesco perchè non mi dava la sigaretta cazzo è un bastardo questo è il pacchetto da vendicarico è un bastardo auguri auguri gf0 al di la dal di la del gran sasso si mua si mua e si ciao auguri auguri sposini auguri auguri spagnolo augurus 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 ciao auguri auguri secondo il vangelo di giovanni allora ragazzi questa volta un discorso serio facciamo tantissimi auguri e questa è nata è terribile è una serata veramente inseribile e io ho paura di tornare a casa tanti auguri da parte di tutta di tutti questa è bellissima ci siamo divertiti tanto un bacio tanti auguri amori ancora auguri dopo i balli latini americani e la banda scolorita talentuoso francesco lucenti ballerino prima scala di milano io che scala so la seconda scala ma avancerò auguri un kiss io sicuro non mi vedo perchè sono andata ciao a tutti francesca marco e matteo ok vi diamo un augurio speciale da parte dell'rgb solo comunque ricordate che facciamo anche i battesi abbiamo giurato che non ci portiamo più francesco matrimonio con la storia per voi basta c'è bastato francesco ora basta ve la descrivo perchè probabilmente non si vede perchè è troppo bassa qui sotto c'è la nostra collega facciamo parlare un attimo andrea che cosa vogliono gli sposi bravo 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 gli sposi. Niente, auguri, basta così. Francia e piangi un po'. Sto mangiando, siamo vinati, ciao. Capra, capra, capra. Auguri! Auguri sposi. Così, come hai detto? La vedo nera, non so quel camminaggio in specchio. Pocca al lupo, eh? Auguri! Cucu! Eccola! Auguri sposi! Auguri, auguri, auguri! Ciao! Tanti auguri della vostra cuginona Silvia! Bacioni, auguri di sposi, ciao! Siamo a tre! Devo dire, siamo a tre! Chi è? Ciao! Ciao, ciao! Ciao, Franci, ciao, Matteo! Quanti auguri! Auguri! Ciao, ci vediamo! Dobbiamo ancora rompere bene i ghiacci, andiamo a fare un bicchiere e poi ci torniamo! Ecco! Domani? Domani? Sì, ciao! Sarò in fin di vita quando lo rivedrò, probabilmente, però! Io me la capicchio! Ti vedo sciupato! Ciao! Ho l'occasione per fare la presentazione a questo signore che non lo conosco! Contenze a tutti i cartelli! Prego, prego! Tanti c'entri! Uuuuuh! Un altro altro un altro, ma non sono me! Uuuuh! Capra! Capra! Allora, auguri! Ciao, ragazzi e voroni! Felice di vita insieme! Grazie! che ce lo fa qua? è una cosa intima ho combinato tutto ho combinato tutto tanti auguri Matteo e Francesca tanti auguri da poco mi portiamo a piaggio questo riprende si tanti auguri a Francesca e Matteo abbiamo un buon un buon ufficio molte prosperità che ti accompagni per sempre nell'ordine lungo cammino amen ciao zia ciao zio Matteo tanti tanti auguri manda un bacetto vabbè non ve lo mando il bacetto auguri ragà pace e bene salute e felicità vi vogliamo tanto bene stiamo benissimo ci stiamo divertendo tantissimo stiamo sentendo che tutti si stanno divertendo le mie marmotte vi amo immensamente vi amiamo bellissima giornata ciao pronto amore si 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 insomma si qua alla grande bellissimo matrimonio va tutto benissimo si divertono tanto bella gente situazione tranquilla a parte lo sposo Matteo un bravo ragazzo faccia una faccia da colpione mamma mia si vabbè la sposa è un'altra cosa molto più figlia alto livello sicuramente non capisco come cazzo gli erano in mente a mettersi con lui capra 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 quindi questo o c'è miliardi o è super dotato che potrebbe pure essere visto che durante il matrimonio l'ho visto che si è appartato con una cameriera due invitate e mascia comunque vabbè aspetto Matteo mi hanno dato l'occhio aspetta che ci sia un video ti auguro per gli sposi ok vai Matteo grande sei il numero uno io Matteo proprio sei un grandissimo e Francesca un bacio che dirvi auguri e andiamo avanti con la festa che sarà una festa fantastica ciao 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 auguri baci 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 fate i bravi e figli maschi allora noi volevamo dire agli sposi innanzitutto vi ringraziamo per questa bellissima giornata che ci avete invitato che ci avete invitato ovviamente una bella festa una bellissima festa felicitissima festa carica di alcol buon cibo buona compagnia io ringrazio tutti i miei parenti che sono qui presenti non sapevo di avere un nuovo cucino ah vedi questo da bello siamo parenti proprio strettissimi il capo vuole fare un discorso capo fa il discorso per i ragazzi volevo dire che mochettone dalla crociera la furnacerra che ci stava in gioco la pantanata di Luca Pannone ecco l'arp chom e gli facciamo una bella seratina anche perché se no ci trovate sopra la nave esatto no esatto la regola eh 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 è buono niente aspettiamo il vostro seguito alla vostra salute un bacio a voi e tanti culoni auguri tonino ciao Matteo ciao 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 come era acceso è acceso è acceso è acceso capra 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 Noi un uomo veniamo a mangiare a casa dopo. Oh, minimo, minimo. E vedevo. Ciao, ciao, ciao. Oh, fra. Ciao. Tanti auguri. Ti ricordi quando stavamo al ristorante e dovevi servire tutti i tavoli con i miei bambini attaccati alle caviglie? Eh, te lo ricordi? Sei cresciuta anche tu. E adesso sei una moglie. Aiuto. Divertitevi soprattutto. Parola d'ordine divertimento. Tanti auguri. Senti, anche io mi comprerò delle Louboutin al mio matrimonio, semmai mi sposerò. Dai, dici qualcosa a tua, ma gli devi dire auguri. Auguri. Tanti auguri. Auguri. E lo correbbe del combinare. Capra, capra, capra. Era lì che voleva cantare. L'uccellino della gommare. Io non ero che anello. L'uccellino della gommare. Aguri, è gli sposi. Auguri, auguri. Auguri, è figa nera. No, perché, evviva gli sposi. Ciao. Ecco, oh Dio. Ciao, io sono la loro figlia. Evviva, evviva gli sposi. E lo credo, scudo. Buongiorno. Sì, è il 6, il camion, il cast, il cazzo, il cazzo. E' un cazzo. E' un cazzo. E' un cazzo. Non so che si rompere, però. Capra, capra, capra. Francesca, Matteo. Ma ci sei stata riprenda? Amuri, amuri, amuri. Tanti auguri. E' stata proprio una bella festa. Grazie Matteo, grazie Francesca. E fagliela di balamasca. Tanti auguri di cuore. Allora. Ok. Matteo. A distanza di un anno te lo posso dire. Io ce l'avevo. Una decina di foglietti che ho scritto Higuain. Con vari prezzi, diciamo. E quindi, non è questione se c'ha la penna o non c'ha la penna. Io ce l'avevo sotto al culo. Io penso che l'amicizia va oltre queste cose, quindi. Matteo. Ormai il danno è fatto. Mi dispiace a dirtelo, ma t'ha incurato. E lo sapevano tutti, lo sapevano. Lo sapevano tutti. Non è vero Matteo, noi non lo sapevamo. Lo sapevo, lo sapevamo. Ciao Matteo, ti saluto Higuain. Ciao. Pronto, chi è la signora? No, sono Ruggeri. Senta, chiamo del direttore, tutto incazzato, tutto arrabbiato. Ma io questo a lui e lo voglio salvare. Ma di chi stiamo parlando? Di Marco, di Domenico. Stiamo parlando solo di Matteo. Ma lei al matrimonio non c'è l'altro. Non è che non ci sono andati, ma lui lo sapevo. Quello parla più con la mamma, con la nonna. Non lo so, di me c'ha paura. Forse sono troppo sincero, troppo severo. Ma insomma, questa lavatrice, gliela regaliamo o no? Ma oddio, quello che gli abbiamo dato, forse la inglese di seconda mano ci può uscire. Oh, auguri. Auguri. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Volevamo dirvi che è stata una festa fantastica. Bellissima, siamo divertiti tutti quanti. Sono divertiti tantissime, sono tutto bellissimo. Non voglio dirvi che questo non è ancora niente. Paola è bellissima. Io sono bellissima. Vabbè, tu sempre. Domenico è bellissimo, Sara è bellissima. Poi siete bellissimi. Comunque, ci vediamo tra un po' a casa vostra. Tanti auguri. Tanti auguri. Tanti auguri. Tanti auguri e tanti pazzi. Le pazze. Grazie. Ciao. 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 Tanti, 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 tanti auguri. Ciao. Ciao. È stata una giornata bellissima. Tornino, amici. Capra, capra, capra. Ah, auguri.